Eccopi qui mister, sono troppo dura se dico che questa sera lo scudetto è compromesso. Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi. Le chiedo di fare un ragionamento chiaramente... Perché le cose che capitano alle persone stupide capitano anche a me! Eccopi!